il nuovo ponte di genova visto da sopra con gli operai di salini in pregilo oggi we build all'opera per consegnare il nuovo ponte ai genovesi in tempi record dopo il completamento delle pile della struttura in acciaio in soli dieci mesi ecco le prime immagini della campata lunga 1067 metri che sovrasta la valle sopra la struttura costituita da 19 impalcati saldati insieme in un unico enorme ponte e sorretta da 18 pile alte fino a 40 metri gli operai lavorano a ritmo serrato sono le settimane decisive quelle dei lavori in quota la soletta di ferro sulla quale verrà colato il calcestruzzo armato che farà da base al percorso autostradale il montaggio degli impianti nascosti all'interno dell'impalcato la prova dei sofisticati sistemi di sicurezza e manutenzione centinaia di lavoratori ancora impegnati giorno e notte per completare la vestizione del ponte l'ultimo passaggio prima della conclusione dell'opera realizzata da salini in pregilo oggi we build insieme a fincantieri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti